Secondo me incontriamo la parità più difficile di quelle che abbiamo incontrato finora. Per me il Chievo è una grandissima realtà, conosco il loro modo di lavorare e sono straconvinto che per noi sia una parità molto molto difficile perché è una squadra molto fisica, molto esperta, che è abituata a lottare per mantenere la categoria e che negli ultimi anni ha offerto anche un discreto calcio e che ha messo in difficoltà parecchi. È normale che la loro posizione in classifica non mi sorprende perché la loro posizione parte negli anni dietro e quindi è una società dove sanno fare calcio e hanno un ambiente idoneo per poter permettere ai giocatori di esprimersi perché non è una squadra che possa magari contare su un pubblico particolarmente esigente e questo secondo me negli anni gli ha stabilizzato il rendimento. Ma quando si fanno punti nessuno sente niente è normale, è la supercompensazione psicologica anche se a dire il vero sono stati pochi quelli che hanno fatto tre partite molti se dovessero rigiocare sarebbero la seconda partita quindi non è un problema da questo punto di vista. In ogni caso noi ci auguriamo che chiunque vada in campo dia il massimo e tutto quello che ha prima di lasciare il posto a un altro. Ad oggi io credo che il gruppo abbia ricevuto delle risposte anche su dei giocatori che non stavano giocando con grandissima continuità e che si sono fatti trovare pronti. Io come sempre dico ai ragazzi per me conta il campo e le scelte le fa il campo. Ma Stoia è la seconda partita che è parito a titolare in questo campionato ed è sempre entrato o subentrato è chiaro che prima di lui la scelta è ricaduta su Raffaele perché io lo ritengo un giocatore molto importante non per questo non ritengo Stoia altrettanto importante. Non pensi che vorrebbero giocare insieme? Hanno già giocato insieme. No, ho detto che hanno caratteristiche simili ma hanno già giocato insieme. E' ipotizzabile quindi con la prima testa e poi a sinistra per esempio? Abbiamo già anche fatto questo o viceversa come a Bologna. Sì, ma è ipotizzabile per domani? Ah, questo non lo so. Devo ancora pensarci. Ma credo che per quanto riguarda la convinzione partita dopo partita crescerà sempre perché ormai la qualità degli avversari è stata ricepita il gol che abbiamo subito peraltro è stato ancora un intervento non figlio di una tecnica approssimativa perché i giocatori della tecnica ce l'hanno ma spesso non c'è magari quella tranquillità e quindi quel trasporto nel gesto tecnico in termini di sicurezza. Io credo che questo sia solo un discorso legato al fatto che più si gioca in questa categoria miglior convinzione si conquista. In realtà per la partecipazione alla manovra offensiva non è stata diversa rispetto a Sassuolo semplicemente con Sassuolo avevamo un modo leggermente diverso di stare in campo quindi utilizzando più due mezze ali e tre punte e con la Fiorentina complice anche il fatto che loro hanno un gioco altamente imprevedibile diventava difficile dare dei punti di riferimento perché significava poi creare delle problematiche abbiamo preferito ragionare sugli spazi quindi tenendo due linee da quattro con due attaccanti e quando si ripartiva si ripartiva comunque sempre in quattro lo stesso accadeva a Reggio Emilia poi alle volte in tre alle volte generalmente comunque in quattro Io mi sono altamente divertito Mi sono altamente divertito e la riunione a fine campo è stata solo per complimentarmi con i ragazzi perché io vedo come lavorano credo ciecamente in loro e sono convinto come gli ho sempre detto che per me è possibile fare punti anche in campi difficili contro squadre altrimenti qualitative non sta scritto da nessuna parte che tu le debba già dare perse in partenza per quanto riguarda la mia posizione io lo sapete come la penso non mi interessa di nulla io amo fare il mio lavoro finché lo faccio lo faccio con grande passione quando non me lo fanno più fare non è un problema Ma questi adattamenti accadono anche giocando con il 4-4-2 generalmente tu abbassi uno dei due centrocampisti un esterno che ha caratteristiche più da mezzala lo porti dentro sulla loro mezzala e preferisce allargare magari una delle due punte non è che nel corso della partita ci sono questi tipi di uscite così come ottenere magari più vicinanza alla punta centrale è chiaro che se la finta la fa un giocatore come Falcinelli è uno che ha corsa che ha qualità per poter darti sia una mano a livello difensivo sia poter giocare come punta centrale o all'occorrenza seconda punta quindi questi sono cambiamenti tattici che avvengono durante la partita e che noi cerchiamo di prevedere poi in funzione di se si magari incontra una linea difensiva a 4 con un centrocampista centrale dipende dalla caratteristica del centrocampista centrale dipende da un po' di cose non è che ci siamo arrivati noi avevamo già giocato col Palermo così diciamo che nell'espressione del gioco nell'equilibrio tra le due fasi per le caratteristiche dei giocatori questo è un modo che ci ha dato la possibilità di poter essere sia offensivi sia guadagnare di più punti ma io non lo so io credo che ci sia un percorso da fare e che una volta conosciute le caratteristiche dei giocatori li si metta nelle condizioni di esprimere il loro massimo potenziale nelle posizioni a loro più consome in questo momento è così non escludiamo il fatto di poter avere altri adattamenti l'importante è che una volta che abbiano capito quelle che sono le richieste ad oggi l'hanno capito perfettamente perché la squadra è una squadra molto disciplinata organizzata tatticamente che prova a fare quelle 4-5 giocate sulle quali insistiamo e che alle volte ci riescono altre volte meno è chiaro che dire Fiorentina e Palermo le uniche due partite dove hai raccimolato dei punti io non mi fermo al risultato non è che abbiamo fatto una parità migliore rispetto ad altre semplicemente siamo riusciti a non prendere un gol e quindi a Sassuolo avevamo preso un 1-2 e non eravamo stati brillantissimi nel portare a casa un pareggio non strameritato di più e con la Fiorentina siamo stati abili dovremmo imparare a diventarlo sempre di più si è già creato un minuto torneo giù lo dicono i punti poi noi non abbiamo ancora incontrato tutte le squadre quindi non posso dirlo con estrema certezza ma ad oggi le ultime quattro squadre sono quelle interessate per poter lasciare nei propri sogni la possibilità di lasciarne appunto dietro tre quindi noi dobbiamo rimanere agganciate a quelle squadre lì perché la classifica in questo momento dice questo poi può darsi che ci sia un Oxider o un Esploda a chi sta in questo momento nella parte inferiore però di fatto è quello è stato un'esploda l'isploda 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 l'isploda